Un bando da 7 milioni di euro sull'efficientamento e la manutenzione della pubblica illuminazione voluto dal comune di Enna e pubblicato da alcuni giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A darne notizia è stato il sindaco Maurizio Di Pietro e l'assessore lavori pubblici Francesco Alloro che ha curato insieme agli uffici la redazione del progetto e del bando. La gara verrà espletata il 30 maggio 2022 e la durata del bando sarà di 12 anni. Siamo soddisfatti per questo ulteriore traguardo raggiunto, dichiara il sindaco Maurizio Di Pietro che consentirà alla nostra città di fare un significativo passo in avanti in tema di risparmio energetico ed efficienza impiantistica. Il project financing sulla pubblica illuminazione e la pubblicazione del relativo bando aggiunge l'assessore Francesco Alloro rappresenta il giusto coronamento di un lavoro di squadra tra amministrazione e ufficio avviato dal mio predecessore nella delega, l'assessore Dante Ferrari e consentirà alla nostra città di godere di una pubblica illuminazione al passo con i tempi in tema di qualità e affidabilità senza dimenticare i vantaggi sul piano economico per il bilancio comunale e quindi per la collettività.